le migliori applicazioni per i fogli di calcolo tipo excel per capirci scopriamo subito la classifica ufficiale attenzione questo video è un estratto del video supremo sulla produttività che comprende 16 classifiche come quella che state per vedere più una bonus su tutti i migliori siti suddivisi per categoria il video completo lo trovate sempre qui su youtube come sempre gratis vi metto il link in descrizione buona visione e la classifica dei fogli di calcolo degli spreadsheet comincia con la quinta posizione di libre office un programma completamente gratuito open source di quelli che vi installate nel computer e che vi permette di avere una validissima alternativa a excel come già fatto altre volte in queste classifiche consideriamo libre office un po simbolicamente a rappresentare tutte le alternative open source che abbiamo a disposizione rispetto a questi programmi sono molte ce ne sono molte anche magari non open source ma comunque gratuite con una semplice ricerca su google o su alternative to punto net trovate un sacco di alternative interessanti libre office direi che una molto valida e solida e presente da un sacco di tempo forse da un punto di vista grafico è rimasto leggermente ma proprio leggermente indietro rispetto ai concorrenti però a mio parere un'alternativa ancora molto molto valida e quello che utilizzo io io ce l'ho installato in realtà io utilizzo uno dei prossimi in classifica nella nel mio lavoro di tutti i giorni poi ve lo indicherò però ho comunque libre office installato sul computer perché tutte le volte che mi mandano un file excel e ho bisogno di aprirlo direttamente sul computer senza caricarlo sul cloud allora utilizzo libre office che mi permette comunque di elaborare qualsiasi file punto xls quindi di tipo foglio di calcolo con una buona semplicità e anche con una buona qualità al quarto posto della classifica abbiamo numbers di apple beh il diciamo l'excel del mondo mac così come anche ios per l'iphone per l'ipad e se utilizzate un mac se vivete nell'ecosistema apple sicuramente è la scelta idonea per voi non avete bisogno con ogni probabilità di andare a cercare altrove è gratuito per i possessori del mac a tutte le funzionalità che servono diciamo che proprio lo standard per chi vive nel mondo apple non è particolarmente eccellente in qualche ambito almeno che io sappia vi confesso che io non l'ho mai utilizzato in maniera regolare non non vivendo nell'ecosistema apple però insomma non mi risulta avere delle funzionalità che lo rendono diverso rispetto ai vari concorrenti ma neanche delle carenze per cui se avete se lavorate con il mondo apple tranquillamente utilizzate numbers e andrà benissimo per il vostro per la vostra esigenza per il vostro utilizzo al terzo posto della classifica abbiamo poi fogli di google questo è quello che utilizzo io regolarmente è lo strumento che utilizzo nella mia vita di tutti i giorni mi ci trovo benissimo è online e in cloud quindi va benone in tutti quei casi in cui poi dovete condividere dei file con altre persone dovete magari lavorare con altre persone e in multipiattaforma lo potete utilizzare con windows con mac con tutti i telefoni che avete a disposizione e una cosa molto carina è che oltre ad essere molto ben integrato con tutto l'ecosistema google quindi anche con g suite come si chiama adesso workspace e tutti gli strumenti di google online c'è ormai una community molto interessata ai fogli di google quindi si trovano anche tanti tutorial tante guide anche avanzate su come utilizzare le formule le funzionalità avanzate per cui insomma è quello che utilizzo io e devo dirvi se proprio dovessi suggerirvi uno strumento basic che va bene per tutti gli utilizzi forse quello che vi succede che vi consiglierei naturalmente vi serve una connessione internet poi per carità si può utilizzare anche senza la connessione internet ma di sicuro il meglio di sé lo dà se avete a disposizione internet insomma se lavorate molto online come nel mio caso in posizione numero due vi metto il grande classico vi metto excel che sicuramente o meglio che è molto probabilmente sapete poi qui è anche una questione di gusti però a mio parere è lo strumento più avanzato per gestire i fogli di calcolo lo è ancora oggi diciamo che vive un po di rendita per il fatto che uno strumento decisamente storico ma io credo che sia oggi quello ancora oggi quello più efficace se abbiamo bisogno di funzionalità avanzate non solo perché efficace come software come programma ma anche perché è quello per cui ancora oggi si trovano la maggior parte dei tutorial delle guide dei corsi delle informazioni su internet quindi se lavorate nel mondo non lo so io della finanza oppure se fate un lavoro per cui avete bisogno di gestire un sacco di dati allora probabilmente excel è la vostra scelta diciamo se vi serve qualcosa di molto molto avanzato io credo che excel sia il posto dove guardare per finire perché voi potreste dire ma perché allora l'hai messo alla posizione numero due della classifica e non si trova in prima posizione e qui l'ho tirato un po per i capelli l'ho tirato un po di per i capelli perché in prima posizione io vi metto air table l'ho tirata per i capelli perché air table sembra un foglio di calcolo ma in realtà non è un foglio di calcolo non ha non funziona come foglio di calcolo ma è per essere più precisi un database estremamente avanzato è un database che ha la forma di un foglio di calcolo che ha alcune funzioni di un for di un foglio di calcolo ma che vi permette di fare molto più di un foglio di calcolo e anche qualcosina in meno nel senso che ci sono alcune funzioni dei fogli di calcolo che air table non vi mette a disposizione ho fatto su air table una guida completa ve la linko nella solita playlist correlata per cui nel caso andate ad approfondire il concetto è che air table oggi nel mondo dei dati è lo strumento tra quelli abbordabili anche a livello tecnico tra quelli facilmente utilizzabili è sicuramente quello più versatile e quello più completo ci permette davvero di fare tantissime cose è lo strumento che utilizzo di più io nel senso che utilizzo i fogli di google se ho proprio bisogno necessariamente di un foglio di calcolo ma ormai ho sostituito quasi tutti gli utilizzi del foglio di calcolo con un database come air table come vedete peraltro air ci permette anche di guardare i dati con tante modalità che sono molto più varie rispetto a quelle concesse da un foglio di calcolo ci permette di creare alla fine dei veri e propri software espandendo nelle funzionalità con le estensioni guardate con con le viste con con tante funzionalità che lo rendono veramente veramente completo e molto molto interessante per cui insomma se l'obiettivo è gestire dati fondamentalmente air table è la vostra scelta io per esempio ci gestisco il calendario editoriale ho realizzato un mio crm per gestire le relazioni con i clienti tra l'altro ho fatto anche un video su come creare un crm gratis con air table insomma è lo strumento che io utilizzo per fare tante cose pensate che io ci gestisco anche tutti gli aspetti legati alla mia salute faccio il tracking dei passi giornalieri delle calorie che introduco e che spendo degli dell'esercizio fisico insomma è uno strumento davvero molto molto versatile che va la pena decisamente di considerare se avete bisogno di gestire dati per avere un'idea più concreta di come funziona vi rimando alla guida completa che ho realizzato c'è un altro aspetto però che noi dovremmo considerare quando parliamo di produttività ed è la parte legata agli scambi con le altre persone cioè alle mail e ai messaggi e allora nel prossimo capitolo vi faccio vedere proprio qual è la classifica dei software per mandare mail grazie grazie vi ricordo che quello che avete visto è un estratto del video supremo sulla produttività che comprende 16 classifiche più una bonus su tutti i migliori siti sulla produttività suddivisi per categoria vi ricordo che il video completo lo trovate sempre qui su youtube che è gratis e che vi metto il link nella descrizione di questo video io vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo ciao 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 ciao